atroci divertimenti per fare questo strano video abbiamo incontrato mille ostacoli da parte della oscura negatività che affligge questa realtà terrestre voleva a tutti i costi bloccare la diffusione del nostro messaggio provocando in pochi giorni il guasto del pc blocco delle principali funzioni per creare il video eliminazione automatica del progetto finito e sparizione di decine di file nonostante siano presenti nel disco rigido costringendoci a decine e decine ore di lavoro in più del necessario rassegnate a doverci confrontare con una potente forza negativa che da millenni infige al genere umano atroci sofferenze siamo stati costretti a realizzare questo video con mezzi di fortuna rendendo il video meno valido nella parte scenica ma più pesante del messaggio contenuto che solo adesso possiamo trasmettere ognuno potrà conoscere in esso il reale motivo delle proprie atroci ingestificate amare sofferenze avendo così la consapevolezza di quanto sia importante evolvere mentalmente liberandosi da obsoleti stereotipi zavorra dell'ignoranza generatrice del male il quale si esprime tramite gli uomini con illogica cattiveria e disumanità il buco nero di una inevitabile autodistruzione sapere significa fermarsi prima che sia troppo tardi